Stai in Alive Quello che non ci vuole più per via dell'acquario Ti ho seguita lì, oggi Durante la pausa Christophe Christophe, ma cosa... Christophe Pronto? Scusa, non riesco a sentirti bene Ora mi senti? Sì, va un po' meglio Stavi aspettando qualcuno? Qualcuno in particolare? Non aspettavo nessuno Non bisogna mentire a chi si ama Ho detto che non aspettavo nessuno È una bugia? No Questa mattina, mentre andavamo alla stazione Abbiamo incrociato una coppia Ti sei girata a guardare l'uomo E ho sentito il tuo cuore battere più forte Quando ci è passato di fianco Si è fermato per un attimo È lui? Senti, non so proprio cosa... È lui che aspettavi al caffè? Cosa... cosa ti aspetti che ti dica? Mi hai mentito? No No Christophe No 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 RISPONDE LA PREGIRIA DEL NUMERO 4 RISPONDE LA PREGIRIA